La gara tra Spoltore e Pontevomano mette in palio tre punti che possono valere un'intera stagione. Il match si accende subito al settimo minuto con Planamente che da 20 metri scarica in porta. Gava si rifugia in calcio d'angolo. Rispondono gli ospiti dopo 120 secondi con Cernac che mette in moto Ture che di sinistro chiama all'intervento Palena. La gara si sblocca al quattordicesimo quando Polisena viene imbeccato. Il bomber del Pontevomano salta tutti, Palena compreso, e deposita in rete. Tipi di proteste dei locali per una presunta posizione di fuorigioco. Al ventesimo minuto Porrini direttamente da calcio d'angolo riceve scarica in porta per il 2 a 0. Lo Spoltore risponde immediatamente con Collasante che raccoglie l'assist di Di Renzo e infila alle spalle di Gava per il 2 a 1. Minuto 25 cost to cost di Petralulo che anziché servire un compagno conclude in porta Gava blocca la sfera. Alla mezz'ora nuove proteste dei padroni di casa per un presunto tocchi di mani in area di rigore su cross di Belli ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi. L'ultima azione degna di note di planamente e la sua conclusione centrale viene bloccata dal portiere ospite. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa. Spoltore subito in avanti cross di Belli dalla sinistra colpo di testa di Sborgia ma sulla linea di porta salva un difensore ospite. Giallo all'ottavo minuto per gli spoltoresi per un fallo che viene fischiato da Di Monteodorisio e Di Vasto a favore del Pontevomano mentre i padroni di casa recriminano il possibile penalti. E al sedicesimo minuto Tris del Pontevomano con Ture la cui conclusione viene deviata da un difensore di casa e batte imparabilmente Palena. Ci prova planamente su calcio di punizioni in due tempi interviene Gava. Al minuto 34 il portiere ospite viene espulso per questo intervento fuori area di rigore sul numero 10 Spoltorese. Per il direttore di gara Cartellino Rosso si incarica della battuta lo stesso planamente ma la sua punizione deviata sulla barriera finisce in calcio d'angolo. Al quarantunesimo Ture cestina il poker su assist di Cernaz. Riapre la contesa Colecchia al minuto 47 in mischia in area di rigore batte il portiere Spinozzi. E al minuto 50 lo Spoltore ha la possibilità di pareggiare ma l'olandese De Vries getta alle ortiche il possibile pareggio. Altrettanto fa le onze sul capovigilgimento di fronte la cui conclusione termina sul fondo. La gara termina con la vittoria del Ponte Romano che porta a casa tre punti che possono dire salvezza. Situazione invece complicata per lo Spoltore. Mister Walter Piccioni una vittoria che vale una stagione. Sì è quello che avevo detto ai ragazzi prima della partita di interpretare come fosse una finale perché era un dentro fuori tra virgolette. Non che adesso siamo fuori ma sicuramente abbiamo messo la testa e possiamo cominciare a guardare un po' la luce. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo strepitoso. Non si può andare dentro 2 a 1 dopo aver avuto 10 palle golle e una palla buttata in area prendiamo il 2 a 1. Poi negli ultimi 10 minuti avete visto quello che è successo e quindi è stata sofferenza pura. Però ripeto valeva tanto questa partita quindi vanno fatti solo i complimenti. Avevo detto ai ragazzi che se non vinciamo questa partita la situazione era non dico compromessa ma quasi. Però se non abbiamo la cattiveria e le motivazioni per uscire fuori da questa situazione la colpa ovviamente è di chi sta guidando la squadra in questo momento cioè io quindi mi assumo la responsabilità di tutto perché non sarò allora bravo durante la settimana o la domenica stessa nel trasmettere tutta la rabbia e la cattiveria che ci serve per uscire da questo momento. E domenica c'è un altro scontro diretto? Sì sì ma noi da adesso fino alla fine abbiamo tranne l'ultima giornata contro l'Aquila abbiamo tutte partite tra virgolette a nostra portata con squadre che sono poco sotto di noi o poco sopra di noi come era oggi ma conta dover capire il momento che stiamo passando e che ci vuole oltre all'aspetto tattico e tecnico ci vuole tanta cattiveria e dovrò essere ancora più bravo io a trasmettere ai ragazzi durante la settimana.